Questo è il tratto naturale della Mora Kingfiz in gestione Fishing Tour Novara che potete vedere al sito www.apd.no.it che vi rimanda al sito della FIPS c'è il buono giornaliero che permette di prendere tre torte di grossa stazza diciamo dal kilo e mezzo in su che viene sbandierato come torte iridea o farlo anche da quello che ho visto io, che ho preso io e ho preso una sola ma ho visto quelle che hanno preso gli altri, ho visto quelle in acqua sono minimo minimo 9 litri e 1 a farlo, costo 20 euro preso in 13 o 14 pescatori, 8 o 9 pesci io farò imbranato, si erano imbranati anche tutti gli altri e poi fanno i filmati gli altri, non io, gli altri gente famosa che fa con i filmati col drone, un certo fish hunter che cosa fanno vedere? Sono i tratti cementati quelli a monte, quelli di là dove nasce la roggia mora che nasce la servia, che sono belli cementificati mentre qui sono naturali, siamo in pedra romagnano servia salve signori, che vedano vi saluta!